La Cremonese allo Zaccheria sabato prossimo e il Venezia a Venezia sette giorni più tardi. Sono le due ultime partite ufficiali della straordinaria stagione 2016-2017 che attendono il Foggia con in palio la Supercoppa di Lega Pro prima del molto presumibile rompete le righe e della partenza della programmazione per la prossima stagione in Serie B. L'ordine cronologico è stato determinato da Cremonese e Venezia, svoltasi sabato scorso a Rozzini di Cremona finita con il successo del Venezia per 2-1 a margine di una gara niente di che che i lagunari hanno affrontato in sostanza con la squadra tipo a differenza dei grigiorossi schierati da Tesser dopo un profondo turnover. La squadra di Inzaghi è andata in vantaggio dopo appena 4 minuti con lo spagnolo Geo servito in profondità da Fabiano che aveva recuperato palla dopo un grave errore di Moro. La Cremonese ha pareggiato con merito al 35esimo grazie ad una girata di Talamo alla sua prima da titolare che ha sfruttato un cross di Salviato ed un velo di Brighenti. Il 2-1 a 4 dal termine firmato da Bentivoglio direttamente sul calcio di punizione.